bello a tutti ragazzi sono Yoneez e oggi vi volevo dire che ho cambiato il microfono in realtà non ho cambiato il microfono, ho portato una modifica che sarebbe l'attrezzo, diciamo, quel coso nero che si mette nel microfono che serve per ridurre il rumore che non so come si chiama, ha una qualità maggiore ora vi farò sentire tre clip, una con questo che è più grosso diciamo di questo che toglie appunto il rumore, uno senza e uno con il vecchio quindi ci vediamo dopo, bella bella a tutti ragazzi, questa è una clip prova come era effettivamente prima l'audio guardate se è meglio questo oppure la clip che vedrete fra poco ok ragazzi, questa è la clip dove non ho messo questo attrezzo per togliere il rumore quindi si sentirà abbastanza con un audio scarso perché appunto non riesce a ridurre il rumore quindi, giudicate voi, io lo trovo pessimo ok, questo è l'audio definitivo quello con il cambiamento credo che sia un audio migliore comunque io vi farò sentire le tre differenze con una piccola parola prova per farvi vedere meglio la differenza senza una frase lunga che poi ci si può confondere è meglio così così oppure così giudicate voi